Qui 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 Mi trancia? No. E' un po' di più. La troia. Vabbè dai, manco grandissimissimino. Io non ero ridotti peggio. La batteria è andata via. Me l'aveva fatto prima. Dico, ma cazzo sarà sta batteria la connessione, che ne so? A me me lo faceva il fancap, cioè me lo fa ancora ogni tanto che.. 100mAh, 30€. Quindi, tu tazzi che il discorso è sempre quello. Più spendi, meno spendi. Lo sai, uè. Non so sta. Io me ne verrei se fossi in me. Dai, dai, dai! Grazie per la visione